Buonanotte Buonanotte Suo figlio Edigardo è stato battezzato con l'ordine di prenderlo Cosa? A prenderlo in che senso? Portarlo via Voglio portarselo via! Tutto è stato fatto in piena regola Secondo il diritto canonico Mi taglierei la testa papà? Ti faranno niente Si può perdere tutto Ma non un'anima che Cristo ha conquistato con il suo sangue Questo creerà nuove attenzioni Io sono il Papa Solo a Dio devo rispondere La storia è andata su tutti i giornali Ha fatto il giro del mondo, è arrivata a fine in America Suo figlio non è più ebreo, signora È cristiano Il figlio è ebreo È stato mio figlio Hai battezzato mio figlio? Guarda Gesù Guarda Gesù Guarda Gesù Suo figlio lo libereremo quando avremo liberato Roma Questa è la tua famiglia adesso? Guarda Gesù 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 Guarda Gesù